Benvenuti nuovamente, vi presentiamo un'altra piccola azienda, siamo in Abruzzo, 20 etter, non di più. Come vi accennavo nell'altra presentazione, la nostra non è ricerca spasmodica riguardo a bini che possono regalarvi un'emozione, qualcosa che possiate ricordare. Partiamo da questo pecorino, 5.000 bottiglie, non di più, mettono arti e notti, grande freschezza, grande mineralità, ma le uve vengono fatte riposare sulle fecce per 6 mesi e che dà un pizzico di struttura. Noi per esempio questo potremmo abbinarlo con la nostra ombrina, scoltata sulla sua pelle, con una salsa di provola affumicata e delle zucchine alla scapece. Quindi immaginate il connubio tra i due sapori e la grande freschezza e mineralità di questo pecorino. Accanto abbiamo un baste in Abruzzo, Montepulciano d'Abruzzo, questa piccola produzione, è una riserva 2018, non potete che immaginarlo con la nostra trippa fritta alla romana con salsa di pomodoro. ci piace cercare sapori antichi e regolarvi qualcosa che possa farvi venire voglia di tornare ancora. Grazie, alla prossima ripostazione.